Marco, grazie per questo invito che mi consente di essere qui con te e con tutti i colleghi in rappresentanza di una popolazione che ho capito essere piuttosto consistente, parliamo di 40.000 persone che operano in questo settore. Quando ci siamo visti da noi ho avuto modo di commentare e di dirti che ho massimo apprezzamento e massimo rispetto per la comunità dei colleghi, non solo perché rappresenta una componente stabile del mondo produttivo italiano, avendo partecipato allo sviluppo, alla crescita, al successo di molte nostre aziende, ma devo dire anche da parte mia c'è un profondo rispetto per questa attitudine a mettersi in gioco quotidianamente, difendendo un po' il patrimonio di competenze e il proprio posizionamento in presenza di uno scenario che spesso e volentieri ha minori certezze oppure minori garanzie, insomma in qualche modo una minore rete di protezione di quanto possa esserci nel caso di magari un management che opera in contesti aziendali più tradizionali. Quindi da parte mia un grande piacere essere qui e di partecipare al dibattito che poi ne seguirà. Tornando invece un po' al tema dello scenario e di che cosa stiamo affrontando in questo periodo, io devo dire che il sistema bancario italiano ed europeo ormai da anni vive profondi cambiamenti che stiamo ancora oggi vivendo e che probabilmente ci accompagneranno per il futuro. È cambiato proprio il modo di fare banca perché la crisi finanziaria prima e la recessione economica poi hanno determinato un forte deterioramento della qualità degli attivi delle banche, cioè dei crediti e in questo senso hanno ridotto in maniera significativa il margine di redditività delle aziende bancarie. I tassi di interesse sono i minimi storici e questo ha determinato un po', lasciatemi dire, una messa in discussione del modello tradizionale di fare banca. Una volta noi facevamo i budget sul margine di interesse, quindi compravamo il denaro ad un certo tasso, lo vendevamo ad un altro, con la differenza finanziavamo la nostra attività bancaria. Esisteva sì una piccola componente commissionale, ma era direi piuttosto contenuta, solo da un certo momento in poi si è posto il problema di come fare per incrementare questa componente del conto economico. Oggi vi dico che se non ci fosse una componente commissionale molto alta, molti istituti di credito avrebbero difficoltà a sopravvivere. Pensate che un gruppo come il nostro, a seconda poi dei trimestri e dei risultati in generale annunciati, oscilla ormai un gruppo come il tra i 43 e il 45% dell'intero totale ricavi. Quindi vedete che stiamo parlando di un modo come dire assolutamente diverso di intendere la competizione bancaria. A questo dovete aggiungere che c'è ormai da anni in atto uno tsunami regolamentare. Il nostro era un settore già fortemente iperregolato. Da quando c'è stata questa crisi finanziaria i regolatori sono scesi in campo pesantemente e hanno cercato di assicurarsi la solidità e la tenuta del sistema bancario imponendo una serie di regole che già erano tante, che per esempio passano attraverso anche una maggiore rigorosità dei ratio patrimoniali a supporto dell'attività creditizia. Pensate che le banche italiane negli ultimi dieci anni, periodo 2007-2017, hanno fatto aumenti di capitale per 71 miliardi, tanto per darvi un po' un'idea. Ma quindi questo sistema di regole ulteriormente irrigidito, ulteriormente appesantito, si traduce non solo in un fardello burocratico che a volte non aiuta poi ad andare nella direzione attesa, perché tante regole, più regole, diventano poi un'assenza di regole, poi essenzialmente. Non è che ci siano o non ci siano regole, ma c'è il rischio che poi si perda concentrazione sulla portata delle norme. E in ogni caso, in ogni caso dico io, questo si traduce in una specie di, come dire, ulteriore fardello di costi che ovviamente più si è piccoli e più come banche si ha difficoltà a sostenere, perché tutto questo poi rappresenta, ripeto, un costo importante. Tutto questo accade mentre cambiano i comportamenti, i comportamenti, le abitudini di consumo e le esigenze dei clienti. E le esigenze dei clienti e i comportamenti cambiano perché effettivamente c'è una rivoluzione digitale in atto che sta determinando delle accelerazioni, delle trasformazioni così forti che sinceramente ci stanno portando verso una condizione impensabile fino a qualche tempo fa. Infatti il forte sviluppo tecnologico sicuramente ha modificato il perimetro della competizione. Cioè noi come gruppi bancari in genere ci confrontavamo con dei gruppi bancari, cioè l'attività e la competizione avveniva tra operatori bancari. Oggi c'è la discesa in campo di operatori non bancari, per esempio prendiamo l'area dei sistemi di pagamento che ha sempre visto una presenza bancaria. Oggi non è più così, ci sono degli operatori diversi. Facciamo riferimento al mondo per esempio ai grandi nomi del digitale tipo Google, tipo Amazon, piuttosto che chi produce la tecnologia del mobile, tipo Apple, tipo Samsung, oppure a operatori emergenti che possono essere Paypal che poi noi tutti conosciamo. Questo per parlarvi soltanto dell'area dei sistemi di pagamento, ma se anche passiamo all'ambito del credito, vediamo oggi degli attori che erano unpredictable fino a qualche tempo fa. Per esempio, non so se avete mai sentito parlare del peer-to-peer lending, che è una piattaforma tecnologica che avvicina domanda e offerta di credito tra privati. Qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. E quindi diciamo è cambiato completamente il perimetro di gioco dove noi come attori bancari siamo chiamati a giocare. E tutto questo in un momento nel quale, secondo me, le banche devono anche recuperare un pezzo di immagine e di reputazione dopo le note, e quindi anche se volete di posizionamento complessivo, dopo le note vicende che hanno riguardato alcuni istituti di credito. Ovviamente questo poi non sarà un tema del convegno di oggi, però sicuramente quello è stato un momento importante rispetto al quale l'immagine e la reputazione bancaria tutto sommato ha subito un colpo per il quale oggi un tentativo di recupero importante va appunto sviluppato. Oltre naturalmente ad una componente invece più storico-culturale che è quella per la quale le banche continuano ad essere percepite come degli apparati molto burocratici, con una complessità amministrativa straordinaria che è quindi con un sistema di norme che pervade un po' tutto il rapporto con la clientela. Quindi diciamo tutto questo scenario in un momento nel quale le banche devono in qualche modo recuperare alcuni punti, devono recuperare un pezzo di immagine e di propria reputazione. Ma se questo diciamo è lo scenario complessivo dove devono tendere le banche, perché questa poi è la domanda successiva. Secondo me, secondo noi, come gruppo, le banche devono tendere intanto a investire pesantemente sui business ad alto valore aggiunto. Ho in mente per esempio tutto il filone della banca assurance, dell'asset management, del private banking, quindi di business dove è ancora importante una forte componente, lasciatemi dire, consulenziale, finanziaria ed esperienza professionale dell'operatore che ancora per fortuna la tecnologia, diciamo, la piattaforma tecnologica non è in grado di garantire, nella forma con la quale appunto una banca riesce a farlo. E sono tra l'altro dei business che appunto ti consentono un minore assorbimento di capitale, in alcuni casi addirittura un assorbimento zero di capitale, tutti questi business che io mi sto appunto rappresentando. Noi per esempio come gruppo, faccio ora un po' di pubblicità alla banca di cui faccio parte, noi come gruppo per esempio abbiamo previsto come forte motore di crescita lo sviluppo del ramo danni non motor. Io credo che non tutti sappiano che in realtà Intesa San Paolo è già la prima realtà in Italia come ramo vita, quindi siamo già la prima assicurazione come dire del paese e questi sono dati che evidentemente non sempre sono conosciuti. Ma vogliamo diventare anche tra i primi 3-4 operatori del mercato con questo piano industriale e con il prossimo, perché no, scalare anche il vertice di questo ranking, quindi diventare la prima assicurazione in Italia come ramo danni non motor. Cosa si intende per ramo danni non motor? Evidentemente tutto il mondo che è quello della protection, quindi vuol dire le nostre case, le nostre imprese, i nostri capannoni, la nostra salute eccetera. Questo non significa che non faremo anche il motor, ma il motor sarà più che altro un entry point a volte diciamo con la clientela che però non riguarda il core del nostro piano industriale che invece punta su qualcosa di diverso. Quindi uno sviluppo di quei business, ripeto, che hanno un alto valore aggiunto piuttosto che nuovi business. Per esempio noi veniamo da un'esperienza per la quale abbiamo lanciato qualche anno fa tutto il mondo di Intesa San Paolo Forveglio che sarebbe questa offerta di casa, questa offerta di servizi immobiliari che francamente quando io ho cominciato a lavorare sarebbe stato impensabile, cioè andare in filiale e vendere dei servizi immobiliari era qualcosa di veramente impossibile. Piuttosto che, visto che poi mi trovo in un contesto quale è quello di oggi, piuttosto che tutto il mondo di Intesa San Paolo Forveglio che sarebbe questa offerta commerciale di servizi non finanziari alle imprese che possono essere utili appunto per la loro crescita. E quindi nuovi business, ma anche gli strumenti e i modelli di business più tradizionali secondo noi vanno messi un po' in discussione e devono essere oggetto di una qualche innovazione. Prendiamo per esempio il programma appunto Industry 4.0 che prima è stato citato più volte. Beh io in questo programma ci posso essere con due modalità, o in un modo piuttosto tradizionale, cioè intervengo nel programma di digitalizzazione dei processi delle aziende manufatturiere finanziando parti di questo programma laddove credo nel far credito a specifiche aziende. E quindi questo è un modo tradizionale di esserci. Oppure, un modo un po' diverso, entrare in gioco sin da alcune fasi di questo programma, diciamo supportare le aziende con degli strumenti e con delle soluzioni innovative per la digitalizzazione del loro processo e a quel punto magari individuare delle forme, delle fonti nuove di ricavi. Quindi non soltanto una modalità tradizionale di finanziare ma anche di avere una partnership con le imprese su questo mondo della digitalizzazione individuando alcuni aspetti, alcuni ambiti che ovviamente possono consentire ulteriori ricavi rispetto a quelli già facilmente prevedibili. Naturalmente tutto questo si colloca, dicevamo poco fa, in una fase di profonda rivoluzione digitale. Quindi uno degli aspetti su cui le banche dovranno puntare fortemente è quello della multicanalità integrata. Non è possibile immaginare oggi di avere una competizione e una competitività che si rinnovi nel tempo se non si è in grado di veramente sviluppare in maniera importante e decisiva tutto il mondo della multicanalità integrata. Vi do alcuni numeri che sono del nostro gruppo alla fine del 2017 perché questo secondo me può essere anche un dato interessante. Allora se voi considerate la operatività transazionale dei nostri clienti, parliamo quindi del nostro gruppo, quindi dato 100 le operazioni che fanno i nostri clienti, noi oggi abbiamo soltanto il 12% di queste attività fatte presso la filiale fisica che conosciamo tutti. Il 12% che poi è un 12% che nel frattempo si è un po' modificato, non è più di attività basiche, di sportello eccetera, ma sono diventate attività più a valore diciamo consulenziale e quant'altro. Il 56-57% è fatto attraverso i servizi ATM che trovate non soltanto presso le filiali ma anche presso altre realtà, insomma non necessariamente banche e il 31-32% invece è garantito da internet banking e dalla nostra app, devo dire sempre più l'app che è stata particolarmente apprezzata dalla clientela, addirittura con un raddoppio dei clienti che usano l'app nel 2017, ormai oltre 2 milioni e mezzo di nostri clienti, fa operazioni transazionali attraverso la banca in tasca, quindi attraverso diciamo il mobile. Il tutto in un quadro per cui il 60% dei nostri clienti utilizza almeno un canale digitale. Quindi vedete che stiamo parlando di un mondo pazzescamente modificato rispetto è. Tolgo ancora pochi minuti soltanto perché a questo allora io aggiungerei per chiudere un po' questo intervento che cosa devono fare quindi le banche per supportare questa strategia. Beh intanto devono avere i conti in ordine e devono focalizzarsi anche su una razionalizzazione dei costi e un contenimento dei costi, però attenzione, io non voglio parlare del contenimento dei costi come una leva stand alone, cioè molti illustri, miei predecessori dicevano ma siccome i ricavi sono incerti e i costi sono certi, io intanto taglio i costi, poi facciamo presto no? Alessandra sorride perché abbiamo avuto lunghi anni passati insieme, tanti anni passati insieme, ma il problema era questo, i ricavi sono incerti, i costi sono certi, quindi io intanto taglio i costi e poi se i ricavi arriveranno sarò sempre in grado di alzare questa sticella di qualche cosa, no? Se invece non dovessero arrivare a quel punto, bene, il problema è che a furia di ragionare in questa maniera i ricavi non arriveranno probabilmente mai perché a furia di avere i conti in ordine probabilmente non si investe in sviluppo, non si investe diciamo in crescita. Invece io voglio parlare di questa cosa qui come di una leva fondamentale per poter invece liberare quelle risorse economiche che sono fondamentali per poter investire, per poter fare investimenti e quindi investire sia su nuovi business sia sulla crescita appunto delle nostre aziende, questo è fondamentale. Noi per esempio come gruppo nel periodo di impresa che va dal 2018 al 2021 abbiamo previsto 5,8 miliardi di investimenti di cui 2,8 miliardi dedicati appunto al completamento della trasformazione digitale in atto. Vedete che sono cifre diciamo importanti, poi se andiamo a vedere Amazon, Amazon magari investe molto di più, ma noi facciamo quello che possiamo, a cui poi tra l'altro dovete aggiungere un miliardo circa sulla formazione, tanto bene. Quindi un contenimento dei costi non come leva stand alone ma come una delle leve per poter arrivare ad una crescita delle nostre banche. Ovviamente per fare questo diciamo si dovrà passare anche attraverso un momento di ripensamento delle nostre organizzazioni quindi dovremmo sempre più puntare a delle lean organizations perché questo è importante per migliorare l'efficacia e la velocità di risposta verso i clienti. Dovremmo inserire nelle nostre aziende delle professionalità, delle skills un po' diverse e più in linea con il mondo che stiamo vivendo per formare, sviluppare, acquisire. Insomma io ho in mente, non so, figure come il data scientist piuttosto che il data quality manager, il web designer. Se la cosa ti fa piacere Marco, qualche tempo fa con appunto i miei collaboratori ci siamo divertiti a fare una comparison dei ruoli e delle figure professionali che andavano in voga agli inizi degli anni 2000, vedo che qualcuno che poi se ne intende ha maggior ragione e appunto abbiamo fatto una comparazione tra la mappatura dei ruoli all'epoca e quella di oggi. Se ti fa piacere te la mando, magari può essere interessante, stiamo parlando di un mondo che è completamente diverso, che non c'è più proprio e quindi dobbiamo inserire questo tipo di professionalità in una condizione di organizzazione del lavoro dove ovviamente va anche ripensato un po', va anche favorito un po' un work engineering perché noi dovremmo anche ripensare fortemente ai tempi e agli spazi della nostra organizzazione del lavoro perché oggi dobbiamo poter intercettare il potenziale che il digitale ci dà e quindi dobbiamo ripensare probabilmente la nostra organizzazione del lavoro, per esempio anche andando a utilizzare una condizione di smart working che non è l'unica leva per poter rivedere l'organizzazione ma è una delle leve, che ovviamente ci consente di da un lato essere più attuali con un modello organizzativo di riferimento, dall'altro ci consente magari di recuperare quei costi che poi ti servono per poter investire sui nuovi business, sulla crescita delle aziende. E the last but not the list è veramente finito, in tutto questo dovremmo essere capaci di essere sempre più delle organizzazioni in grado di governare internazionalmente il nostro contesto. Alessandra è persona che veramente si può definire internazionale e ha avuto delle esperienze straordinarie, lo sa bene, noi come gruppo siamo un gruppo già multi country, multinational, siamo in 36 paesi, abbiamo quasi 8 milioni di clienti all'estero, abbiamo fatto tanto ma anche noi dovremmo completare un po' questo tipo di percorso perché sono convinto che di qui a qualche anno, questa non è una notizia naturalmente ma è una visione strategica, tra qualche anno ci sarà un momento di ripensamento della presenza delle banche in Europa, ci sarà un momento di razionalizzazione, quindi ci saranno delle banche che saranno più aggreganti e banche che saranno più preda e quindi noi dovremmo presentarci con una capacità manageriale veramente multinational se vogliamo essere al centro della competizione internazionale. Grazie a tutti.